L'area PP1 è uno dei talloni d'Achile della sicurezza a Padova, 48 mila metri quadri di terra di nessuno, a ridosso da quella piazza De Gasperi in cui 400 residenti si sono tassati per pagare la vigilanza privata e ad appena 200 metri dalla cappella degli Scrovegni. Quest'area abbandonata in cui erano persino comparse delle tende da campeggio a testimonianza di un problema tutt'altro che transitorio è diventata triste emblema di degrado e criminalità al ricovero permanente di sbandati e luogo di spaccio. È l'ordine del giorno, c'è apparecchio, dormono anche, si vedono quando saltano fuori. Luogo di persone che magari sono dedite a stupefacenti e cose del genere. Denunce e segnalazioni si ripetono oramai da anni a testimonianza di una situazione che si trascina da troppo tempo, un'area per il rilancio della quale è chiamata in causa anche la provincia. Effettivamente un'area così degradata in questo momento non può rimanere al centro della città, ma sicuramente ne troveremo nelle prossime settimane una soluzione. Io da parte mia ne sto già parlando sia con il sindaco che con la Camera di Commercio, con tutti gli interlocutori e una soluzione la troveremo e la indicheremo. I nodi da sciogliere sono diversi ma la necessità di risolvere il problema è urgente. C'è una perizia su un'area, una perizia di 8 milioni di euro, delle aste che sono già partite sono ancora in itinere, nel senso che non sono ancora state completate, non ci sono state delle richieste. Adesso vedremo con la città, con tutti gli interlocutori della città, di dare una destinazione a quell'area, di trovare dei possibili acquirenti e comunque risolvere il problema della sicurezza.